Confindustria condivide il percorso avviato dalla Commissione europea e auspica che questo si traduca rapidamente in impegni concreti e vincolanti per istituzioni europee e nazionali. Per questo invita il Parlamento italiano e il Governo a porre in essere tutte le azioni necessarie affinché il sistema di presidenza italiana sia l'occasione per arrivare alla definizione di quell'industrial compact che rimette l'economia reale al centro delle politiche europee per ricostruire con concretezza la fiducia in Europa forte e solidale che molti cittadini hanno smarrito in questi drammatici anni di crisi.